Ma che gol ha fatto Josip Idicic? Gol cinico, freddo, proprio bellissimo perché tanta freddezza in questa conclusione. Soprattutto contro uno ex compagno che mi conosce bene, che abbiamo giocato insieme. Non sto scherzando, è un gol importante per quel punto che abbiamo conquistato, però secondo me dovevamo fare altri due perché ci abbiamo meritato secondo tempo. Primo, come abbiamo visto, non abbiamo fatto bene, però ci dobbiamo continuare su questo secondo e fare le cose bene. Quanto ramarico c'è? Due punti persi, più che punto guadagnato? Sì, secondo me sì, perché secondo tempo abbiamo meritato di fare pure secondo gol, anche terzo, però purtroppo non l'abbiamo fatto. Però va bene così, ci dobbiamo fare punti più possibili anche fuori perché fino ad oggi abbiamo fatti pochi. Adesso c'è una giornata di stacco e poi testa e concentrazione all'Europa League, c'è un primato nel girone da andare a confermare, conquistare. Sì, certo, sono tutte partite dure, soprattutto quella di Europa. Noi ci giochiamo per primo posto, non ci dobbiamo pensare che abbiamo due risultati aperti, ci dobbiamo vincere. Giochiamo a casa, sicuramente era stadio pieno e ci dobbiamo fare bene e vincere questa partita.